Non mi interessa chi paga, cosa, ve la vedete voi? Ma assolutamente no! Non voglio rispondere dei debiti degli altri. Se non mi pagate tutto il conto, chiamo la polizia. Questa è la legge! Ciao amici, oggi vi invito a prendere un aperitivo con me. Allora, immaginate questa scena. Ci sediamo tutti insieme e poi io, ad un tratto, mi dileguo. Ecco, ci sono, ma non mi vedete. Posso essere un fantasma oppure un semplice narratore di quello che è il nostro caso giudiziario di oggi. Vi interessa? Sì che vi interessa! Vi assicuro che non tutti saprebbero come comportarsi in un caso del genere. Ma prima, fatemi riapparire. Eccomi, insomma, dovrei esserci tutto. Sì. Oddio, oddio, manca un braccio! Regista, per piacere, fammi riapparire il braccio! Ecco, adesso sì, ci siamo. Benissimo. Allora, amici, appaio per ricordarvi di iscrivervi al canale e azionare la campanella degli avvisi. Solo così potrò insegnarvi il diritto divertendovi. Siete tutti pronti? 3, 2, 1, stacchetto! Immaginate cinque amici e tre ragazze che prendono aperitivo in un bar. I giovanotti vogliono fare bella figura e non si fanno problemi a ordinare prosecco. Se non che, due dei cinque maschietti ad un certo punto lasciano il gruppo per esigenze improvvise. Forse sono smemorati, forse sono degli aspiranti furbetti. Fatto sta a che non passano dalla cassa a pagare la loro quota. Gli altri amici, quando vanno a pagare, si meravigliano di vedersi addebitare anche la quota di quelli che nel frattempo sono andati via senza pagare. Così, tra uno di questi, che chiameremo Marco, nasce una discussione con il titolare del locale, che chiameremo Renato. Il conto complessivo è di 150 euro. Mi scusi, guardi, io pago solo la mia quota e quella delle ragazze. No, io vi do il conto, poi non mi interessa chi paga, cosa, ve la vedete voi. Venite in cassa quando avete tutti i soldi. Ripeto, io rispondo solo della mia quota. No, a me non interessa dei vostri accordi. Vi ho dato un tavolo e mi pagate il tavolo. Questo è il conto. Ma assolutamente no! Non voglio rispondere dei debiti degli altri. Tu non sai come ci si comporta in questi casi. Se non mi pagate tutto il conto, chiamo la polizia. E noi, scusa, che c'entriamo col conto del nostro amico? Ognuno paga i fatti suoi. Questa è una regola che ti sei inventato tu. Bene, amici, se voi foste il giudice, a chi dareste ragione? A Renato, che vuole che Marco o uno o qualsiasi dei suoi amici rimasti al tavolo paghi il conto complessivo? O a Marco, che invece vuole solo pagare la sua quota? Scrivete la vostra sentenza nei commenti e ascoltate la soluzione. L'esercente è tenuto ad emettere tante ricevute o scontrini per quanti sono i commensali. Questo perché il contratto che questi conclude, anche se oralmente, è con ciascuno di essi e non con il gruppo. La comitiva di amici, infatti, non è un soggetto giuridico come una società o un'associazione. Ne è possibile ipotizzare una responsabilità solidale tra tutti i clienti solo perché seduti allo stesso tavolo, almeno in assenza di un esplicito accordo con il titolare del bar. Accordo però che deve avvenire prima di sedersi e di consumare. Ragion per cui le obbligazioni, ossia i contratti, sono tanti per quanti sono i clienti. Quindi il titolare del locale deve mettere tanti scontrini per quanti sono gli amici o comunque non può esigere dagli altri il pagamento di chi invece è già uscito dal locale senza pagare. Dunque, se un amico non paga la propria quota, il ristoratore non può chiederla agli altri. Una tale pretesa non avrebbe alcun fondamento legale e qualsiasi giudice la rigetterebbe. Nessuno, insomma, è responsabile per la quota degli amici che siedono al proprio tavolo. Del resto, ben potrebbe essere che uno dei commensali gradisca alzarsi prima degli altri, pagare il proprio conto e andare via. Oppure potrebbe avvenire che uno di questi, esercitando un'attività commerciale o professionale, richieda la fattura per scaricare dalle tasse il costo della relativa cena. Quindi, nel nostro caso, ha ragione Marco. Ha fatto male Renato a far uscire dal locale due clienti senza che pagassero la loro quota del conto. Ne può pretendere che la paghi Marco o uno dei suoi amici rimasti nel locale. E sapete perché? Ditelo voi. Perché questa è la legge. Perché questa è la legge. Questa è la legge. Ciao Nici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.